Buongiorno. La chiacchierata di oggi riguarda l'universo. Niente di meno. E ci chiediamo se l'universo manterrà costante la sua luminosità o se pian piano questa luminosità diminuisce. Questo ovviamente dipende dal numero di stelle che emettono luce, che rischiarano tutto l'universo stesso. Ebbene, per rispondere alla domanda dobbiamo prima di tutto capire come funziona una stella e prendiamo come esempio il Sole. Sapete che il Sole è una stella di media grandezza che si è formato circa 5 miliardi di anni fa e che vivrà altri 5 miliardi di anni. Più o meno quindi è una stella di mezza età. Alla fine della sua vita succederanno delle cose abbastanza mirabolanti sia al suo interno sia nelle parti più esterne, tanto che l'inviluppo esterno si ingrandirà fino a far diventare il Sole una gigante rossa che ingloberà la Terra fino ad arrivare più o meno a metà tra l'orbita della Terra e l'orbita di Marte. Quindi una cosa enorme e probabilmente farà molto caldo. Questo succederà tra 5 miliardi di anni. Le stelle più piccole del Sole invece viveranno molto molto più a lungo. Le stelle molto piccole, quelle che hanno una massa di un decimo di quella del Sole, che si chiamano nane rosse, possono vivere anche mille volte di più. Quindi addirittura una decina di migliaia di miliardi di anni. Le stelle invece più grandi del Sole, quelle che hanno più di una massa solare, fanno una vita molto più intensa, più spericolata e vivono di meno. Diciamo che una stella che ha dieci volte la massa del Sole vive mille volte meno. Quindi vive circa dieci milioni di anni. Quindi se noi facciamo le stelle di diversa massa, le facciamo nascere tutte insieme, le prime a morire, anche se in modo spettacolare, sono quelle più grosse, che sono anche le stelle che emettono luce più blu perché sono più calde. Mentre quelle che vivono di più sono le stelle più piccole, che hanno una temperatura minore e quindi emettono una luce più rossa. E questo lo vediamo anche facendo una fotografia di una galassia come questa. Quindi abbiamo delle parti rosse e delle parti blu. che indicano immediatamente dove si formano le stelle e quale età hanno. Quindi abbiamo che le stelle blu sono giovani e le stelle rosse sono vecchie. Adesso, se noi supponiamo che il ritmo di formazione delle stelle continua, invariato nel corso del tempo, avremo sempre la stessa proporzione. Sappiamo che le stelle più grandi scoppiano e vivono poco, ma sono sostituite da quelle nuove. E se questo è vero. Invece quello che scopriamo è che c'è stato un periodo dell'universo di grande formazione delle stelle, di grande formazione stellare. È un po' come negli anni 70 in Italia e negli altri paesi. C'è stato un baby boom, dopo il quale, dopo il baby boom, le natalità sono diminuite. Ecco, anche per l'universo c'è stato un baby boom stellare che è avvenuto circa 10 miliardi di anni fa. 10 miliardi di anni fa si formavano stelle ad un ritmo 10 volte superiore a quello a cui si formano adesso. Non è un caso che anche la nostra galassia ha 10 miliardi di anni, più o meno. Si è formata anche lei, la Via Lattea, nel periodo di massima formazione stellare. Oh, le prime stelle si sono formate anche molto prima, 12-13 miliardi di anni fa, ma ad un ritmo inferiore. Quindi, che cosa succederà nel corso del tempo? Succederà che sopravviveranno tante stelle rosse, mentre le stelle più calde, più blu, ormai moriranno prima e non saranno sostituite. Quindi, piano piano, le galassie diventeranno sempre più rosse. E quindi il rosso sarà il colore dominante dell'universo nel futuro, e però, piano piano, anche le stelle più piccole moriranno, e quindi, piano piano, l'universo è destinato a spegnersi. Quello che succederà dopo lo vediamo in un'altra occasione, in un'altra curiosità. Arrivederci.